Ulrich Klamsteiner, Agenzia Casa Clima, Vice Direttore. Come ogni anno facciamo volentieri questo intervento presso l'Agenzia Partner dell'ASS dove l'intervento è suddiviso su due parti. Il primo è il nostro evento periodico e classico Casa Clima con la spiegazione della nuova direttiva tecnica per gli edifici nuovi con particolare attenzione alla descrizione del catalogo Casa Clima e alla linea guida per il test di blu odore. dall'altra parte sulla parte impiantistica che è inserita come novità nella direttiva. L'altra parte anche come novità e anche nello sviluppo in futuro è il nostro nuovo sigillo di qualità comune, comune clima. Questo sarà un altro anello per il miglioramento energetico non solo in un contesto degli edifici ma in un contesto anche di zona o di territorio come può un comune. Attualmente non è solo di fare efficienza dei singoli edifici ma fare efficienza in gruppo dove il primo nucleo abitativo più grande di un edificio è sicuramente il comune. Per cui ancora buon ascolto e buona settimana per l'arrabbi architettura.